Musica Ben trovati ad un nuovo appuntamento con il Tg Mattina di TRG Come ogni mattina al risveglio la rassegna stampa per leggere insieme i quotidiani Ne dicola oggi nella nostra Umbria E come sempre cominciamo dall'analisi delle prime pagine Siamo al giornale dell'Umbria Si parla di esenzioni, ticket, sanità, nuovi criteri Entro marzo il rinnovo, quali categorie ne avranno diritto E sempre per la prima del giornale dell'Umbria Bimbi in ospedale chiesto il sequestro delle caramelle L'ADOC chiede di fermare questa nefandezza Possono esserci altri rischi Caramelle che lo ricordiamo hanno causato malore nei bambini che le hanno mangiate Slitta di un mese, TFR in busta paga Da aprile possono averlo 200.000 Umbri Ma va chiesto a Sisi, ti strappo il cuore Stop al marito violento, mai più vicino alla moglie Da Foligno protezione civile, gli allarmi arriveranno ai cittadini Via cellulare, da Terni, Ast, Dazi Sull'acciaio, l'Europa tassa, linox asiatico Vantaggi per le acciaierie Perugia, aggressione al Kandinsky Il marocchino deve restare in carcere Per le cronache Spoleto, firme Tarocco, sequestro Maxi in una boutique In Toscana, gli Umbri socialmente pericolosi E per Perugia, smog e traffico bloccato È subito polemica Restiamo a Perugia Entro l'anno arriva la prima residenza per anziani non autosufficienti E sempre a Perugia nasce la Paolo Rossi Academy L'ex azzurro Vara La sua scuola calcio Qui formeremo, ha detto, un nuovo pablito Siamo alla politica verso le elezioni L'intervista al vice segretario Guerini Che chiama, ha raccolto il PD Umbro E per l'inserto extra, evento internazionale a Spoleto Danzano 45 nazioni con 355 ballerini Perterni, omicidioraggi, dubbi sull'aggressione al fratello del killer Prima pagina del Corriere dell'Umbria Si parla ancora di sanità Non delle esenzioni Ma delle barelle nei corridoi Piano bloccato Lo stop della convenzione congela Ventiletti Nuovi primari e reparti duplicati Questo al Santa Maria della Misericordia di Perugia Scampati per miracolo all'attentato di Tunisi Una coppia di campello sul Clitunno Era in crociera sulla nave costa fascinosa Per la strage del Museo del Bardo Hanno assistito indirettamente a quanto accaduto Politica La franco candidata a scontro con Ricci Per l'economia Verso l'introduzione dei dazi Per l'inossidabile orientale E da Perugia Confermato per oggi il blocco del traffico Ma per l'ARPA L'aria è ok Da Terni, aggressione a Samira Gli inquirenti vogliono vederci chiaro E da Spoleto Ustionato dal materasso in fiamme Grave Un anziano Siamo alla prima pagina della Nazione Siamo all'inserto dedicato alla nostra Umbria Vediamo la foto del sindaco di Perugia Multato Un servizio di Nucci Che spiega come i vigili senza pietà a Perugia Abbiano sanzionato anche l'auto del primo cittadino Andrea Romizzi scrive La Nazione la prende con filosofia E dice pagherò Antismog, traffico limitato in città Restiamo a Perugia Occhio a orari, percorrenza e tipo di vettura Potrebbero scattare delle contravvenzioni Sempre a Perugia abbiamo visto Nasce la Academy di Paolo Rossi Che diventa professore di calce Poi persecuzioni, minacce alla ex moglie Ora non può avvicinarla È accaduta da Sisi Poteva finire in tragedia come a Terni Botte da orbi al titolare del pub Kandinsky A Perugia in via dal Pozzo Parla il giudice Per quanto riguarda l'assessore Perugino Fiera di Pasqua Piazza vietata alle bancarelle E poi verso le regionali Forza Italia La Franco sfida Ricci Chiudiamo con un protocollo d'intesa Che riguarda bullismo e dintorni Tutelare comunque i minorenni Mediazione penale tra associazioni Curia e Stato Chiudiamo con la prima pagina Del messaggero dell'Umbria Penedicola Oggi il titolo di prima pagina Anche qui riguarda la sanità Ancora una lettura diversa Della sanità Umbria In questo caso C'è un'inchiesta sugli acquisti L'occasione è mancata In nove mesi La centrale unica ha attivato Appena una decina di contratti Come spiega Federico Fabrizi C'è ancora l'allarme per i dolciumi a rischio Verifiche sull'otto sospetto di Caramelle Che ha mandato in ospedale 14 bimbi Il NAS controlla anche la produzione E l'ADOC chiede il sequestro In tutta Italia E ancora da Perugia Le scuole finiscono sotto scorta Per bulli e vandali Da Spoleto scommessa Verde della Monini Per l'ambiente Da Terni finalmente Buone notizie per la AST Che provengono dalla UE Vengono annunciati dei dazi Per l'inox asiatico Che dovrebbero dunque Tutelare il mercato italiano E anche quello dell'acciaio ternano Ancora Terni Le operatrici del call center Per mangiare Si fa la colletta E per il provvedimento anti-smog Da Perugia 40.000 auto a rischio di multa E l'isoccorso dopo il trapianto Sfida per la vita A 27 anni E un perugino Chiudiamo con l'angolo del meteo Oggi è il 21 marzo E' primavera Una primavera che secondo Gilberto Scalabrini Può attendere in arrivo Il maltempo per oggi e domani E dopo lo sguardo ai titoli di prima pagina Proseguiamo con le cronache regionali Dalle pagine del giornale dell'Umbria Che sceglie di aprire con le esenzioni Sui ticket Nuovi criteri per il rinnovo Approvati i parametri Ed ecco chi deve presentarsi Alle Ausl E per quanto riguarda Gli ospedali giudiziari In Toscana Gli Umbri socialmente pericolosi Nessuna struttura nella regione Le persone come Luigi Chiatti Che usciranno di prigione Saranno collocate in queste nuove residenze Appunto fuori regione Siamo anche alla politica Da sinistra Guerini chiama a raccolta il PD Parla dunque il vice segretario nazionale In vista della direzione regionale di lunedì Contenuti e interpreti nuovi Sulle candidature Evitare forzature e personalismi Per il centrodestra La Franco Di Fuoco Il deputato di Forza Italia Avverte Se ci lasciano fuori dalle liste Noi siamo pronti a scendere in campo Così le cronache regionali dal giornale Ora siamo al Corriere Convenzione Nuova struttura complessa Un altro Maxillo facciale doppia genomica Lo stallo tra Ateneo e azienda ospedaliere Blocca anche il piano Antibarelle nelle corsie Niente stipendi aggiuntivi per gli accademici Così la panoramica sulla sanità Umbra e Perugina dal Corriere Acqua che bollette L'indagine di cittadinanza attiva Dottorini La giunta Corra ai ripari Si parla della spesa Sul costo del servizio idrico in Umbria Che risulta uno dei più alti in Italia Il terzo più alto in Italia Per regioni La Franco candidato Pronti alla sfida Scontro con Ricci Caos nel centro-destra Il deputato azzurro furioso Per l'esclusione dei fittiani Lignani rientra in FDI Moni e Monacelli in bilico Intanto Forza Italia lancia il ticket Riccinevi Polidori Tutti uniti Si parla anche di agroalimentare Del premio nazionale Ercole Olivario Ecco i magnifici Umbri Dell'oro verde Su 103 aziende Che si sono distinte negli ultimi 10 anni 14 provengono dal cuore verde Siamo al regionale della Nazione L'omicidio di David Un atto ingiustificabile Il fratello dell'assassino Parla dopo l'aggressione Ma ci sono dei dubbi da sciogliere Come rivela il giornale Mi hanno menato in tre I dubbi degli investigatori Sulle botte al ragazzo Ancora cronache regionali Ticket sanitari Ecco chi deve mettersi in regola Disoccupati under 65 Ma anche bambini Nuove regole Per ottenere le esenzioni Caramelle nauseabonde Dimessa La bambina di 11 anni Intanto l'ADOC Chiede il sequestro del prodotto Aereo precipitato Morirono in due Il tribunale assolve Tutti gli imputati Il disastro del 2008 È senza colpevoli Accadde a Costano Poteva essere un'altra tragedia Come a Terni Stiamo parlando Dell'aggressione al titolare Del pub Kandinsky Parla il giudice Abbiamo rischiato Un nuovo caso David Politica Bagare in Forza Italia La Franco Sono pronto a sfidare Claudio Ricci Il sindaco di Assisi Va in tandem Con Nevi E Paolo Rossi Sforna talenti Cerco il nuovo Pablito Dice Inaugurando la scuola Calcio A Perugia Del campione Del mondo Ed è tutto Per il regionale Del quotidiano La Nazione Ora siamo Alle cronache Regionali Del messaggero Abbiamo visto L'inchiesta Sulla sanità Per gli acquisti Ognuno fa da solo In nove mesi La centrale Unica Nata per risparmiare Ha concluso Soltanto Una decina Di contratti E poi c'è la crisi Interna Al centrodestra Dentro Forza Italia La Franco Spazio in lista O ce ne andiamo E poi allarme Per i dolciumi A rischio Supercontrolli Ancora Cronache regionali Biologico e green Così si rilancia L'Umbria Alla Monini Certificato Da azienda Amica Dell'ambiente E poi Ieri è stato il giorno Dell'attesissima Eclissi La guardo Attraverso Il femore di nonna Una curiosità In tanti Sono scesi Nelle piazze Nelle vie Di Perugia Ma di tutta l'Umbria Per vedere appunto Con ogni mezzo Il fenomeno Rarissimo Dell'eclissi Per quanto riguarda Le cronache regionali Come sempre Passiamo Da quelle Generiche A quelle di carattere Economico La triste fine Dei lavoratori Della Fruit Siamo all'alimentare Dura lettera Dei lavoratori Di quel comparto Della San Gemini Rimasti A piedi Intanto Al mercatone 1 Allarme Taglie e chiusura In bilico Oltre 40 posti di lavoro Si derurgia Una notizia Che vedevamo già Nelle prime pagine Indiscrezioni Sempre più forti In arrivo I dazi Per l'inossidabile Made in Oriente La Commissione Europea Potrebbe decidere Mercoledì Una imposizione Quella dei dazi Che favorirebbe Tutta la produzione europea Non soltanto Quella Umbria Ed italiana Umbria Fashion Tourism Moda e turismo Insieme Per promuovere Il territorio Siamo al Tessi Le otto aziende Della tradizione Manifatturiera In un unico brand Con itinerari Tra cultura Ed eccellenze Locali E per la tecnologia Impianti radioelettrici La giunta Approva Le nuove linee Guida Per l'economia Siamo al giornale Dell'Umbria TFR in busta paga Ad aprile Per circa 200.000 Umbri L'opzione slitta Di un mese I lavoratori dipendenti Interessati Debbono fare richiesta E per il vino Vola L'export Frenata Dell'Umbria A livello nazionale Vale 5,11 miliardi di euro Il Cuore Verde d'Italia Contribuisce Per circa 26 milioni Male L'e-commerce Ed ecco Tutti i dati Dal giornale Siamo Al quotidiano nazionale La Nazione Per la pagina Umbra Dell'economia Si parla Scusate Per la pagina Dicevamo Dell'economia Dedicata Alla nostra Umbria Si parla ancora Della crisi Del gruppo Del mercatone 1 Alla resa dei conti Salviamo Quei posti di lavoro Magione Il sindaco Chiodini Dice Riqualificare L'uscita Del raccordo E intanto La cooperativa ACTL Inaugura Una nuova residenza Per anziani A Ponte Della Pietra E per quanto riguarda Le notizie Umbra Siamo Alla cultura Dal messaggero Sotto il muro Dell'orto Il mito Di Orfeo Il 1875 Un capomastro Del cantiere Della chiesa Di Sant'Elisabetta Scopre qualcosa Di anomalo Di interrato C'è uno dei più bei Mosaici Di epoca romana Mai rinvenuti A Perugia Ed ecco la storia Dei mosaici Di Sant'Elisabetta Che si trovano Al dipartimento Di scienze Shakespeare Non con gli occhi Ma con le orecchie Le grandi colonne sonore Dei film Sul bardo A bagliori d'autore Al quasar La fiera Del disco Ed è C'è il volto ritrovato I tratti di Cristo Alla Rocca Paolina All'Artemisia Di Vialessi L'arte si risveglia Con dottori E Dorazio Ancora Per la cultura Giornale Dell'Umbria Oggi L'inserto Extra E si parla Di Spoleto Del grande happening Che riguarda la danza Con 355 ballerini Un evento internazionale 45 le nazioni partecipanti Da domani Al 28 marzo Le selezioni al Chiostro San Nicolò Perugia Tutto intorno a Shakespeare Ecco gli appuntamenti Di Bagliori d'autore Da oggi a domenica 29 A Gualdo Tadino invece Di scena Al Don Bosco La mia odissea Commedia di Marina Toves Drammaturga Regista E attrice Per quanto riguarda La cultura Del Corriere Dell'Umbria Si parla Del bilancio Dopo il concerto Di De Gregori La fondazione Sergio Piazzoli Ringrazia Per lo straordinario Risultato Del concerto Di Scusate Di Foligno E a Spoleto Settimana della danza Boom Di presenze Ancora Per spettacoli E culture Dal Corriere La stella Di Beatrice Rana Brilla Sulle note Di Chopin La pianista Di fama Internazionale Sarà ospite Degli amici Della musica Domani pomeriggio Alle 17.30 Per il concerto Alla sala Dei notari Chiudiamo Con la cultura Con le pagine Culture e spettacoli Della nazione Un mondo Senza confini Di Riccardo Russo Un piccolo poeta A San Matteo Degli Armenia Perugia Un talento Di 11 anni Che vive A San Mariano Di Corciano Alle 17.30 Presente Il suo libro Di poesie Il mondo È senza confini La nazione Ci ricorda Anche Che questo È il weekend Di apertura Delle giornate Del FAI Per gli scrigni Più nascosti Le giornate FAI Di primavera Queste le Cronache regionali Ed ora L'approfondimento Come sempre Dai territori Cominciamo da Perugia Smog Oggi stop Al traffico Ma è già polemica Tensioni In maggioranza È inutile Così bollano Il provvedimento Dopo i dati Sulle polveri Sottili Si parla anche Dell'aggressione Al Kandinsky Resta in carcere Il 27enne E ancora Per le cronache A Città di Castello Torre Civica Ci siamo L'annuncio A breve I lavori Per riqualificarla Ancora A Città di Castello Anzi San Giustino Tour in Alto Tevere Per il capo Della protezione civile Gabrielli Visiterà oggi pomeriggio Le zone colpite Dall'ondata Di maltempo Del 5-6 marzo Scorsi Intanto Da Castello Cirignoni Chiede Alla giunta Regionale Una postazione Del 118 Per Trestina Gubbio Sviluppo Sviluppo economico E turismo Confronto Con il governo Criticità E risorse Della fascia Penninica Le linee Tracciate Da Morando E Barracciu E poi il progetto Ti strappa il cuore Stop al marito Violento Un caso che proviene Da Assisi La polizia Parla di mesi Di intimidazione Alla ex moglie Che era costretta A cambiare casa Insieme alle figlie Scatta il divieto Di avvicinamento Abbassia Umbra Punto d'ascolto Donne L'assessore risponde Alle critiche Dell'opposizione E ancora Per quanto riguarda Foligno Ora la Prociv Ti avvisa Al cellulare È stato presentato Il servizio Che comunica Eventuali rischi Direttamente Ai cittadini Questa mattina Alle 11 Inaugurazione Dei casalini medievali Acquistati Dalla fondazione Carifal E sottratti Ad usi Non coerenti Con la loro Lunga storia Che inizia In epoca Medievale Per il casone Schiuma Dal depuratore La bus Replica Guasto Corretto I valori Delle acque Sono entro I limiti Ancora Foligno Nuove misure Per la sicurezza Il comitato cittadino Istituirà Una squadra Di volontari Per il pattugliamento Della città E poi I musei Gestiti Da una cop Bolognese Non c'era È stato firmato Il contratto Con l'amministrazione A Gualdo Intanto Il sindaco Presciuti risponde Alle opposizioni Duro nei confronti Della destra C'è chi parla E c'è chi opera Siamo ora Alle pagine Dei territori Dal Corriere dell'Umbria Anche qui Partiamo da Perugia Non ci sono Sforamenti Delle polveri sottili Ma il comune Conferma il blocco Del traffico Dunque oggi e domani Stop per le auto Fino ad Euro 3 Dalle 8.30 Alle 12.30 E dalle 14 Alle 16 Aggressione Alla gestore Del Kandinsky Modalità Cruente Futili Motivi Il giudice Restivo Dice Possibili altre Condotte Violente Ed è stata disposta Alla custodia Cautelare in carcere Per l'arrestato Ancora Cronache Locali Siamo arrivati Ad Assisi Per seguita La ex moglie Ora deve starle lontano Per l'uomo scatta Il divieto di avvicinamento Inferiore ai 500 metri Ricci Iniziano i lavori Dell'importante progetto Per il remake Della piscina Sarà risistemato Tutto Il piano Vasca La città di Castello Simulano danni alle auto Per chiedere risarcimenti La famosa Truffa Degli specchietti Che sta facendo Un po' il giro Di tutte le città Della nostra Umbria Tra cui Foligno Dove più volte La truffa è stata segnalata Anche attraverso I social network La protezione civile Ha la sua nuova sede Siamo ad Umberti Dettaglio del nastro In via Pian di Bottine Con Franco Gabrielli Oggi alle 16 e 30 E a Gubbio Torno Gubbio Express Il trenino per tutti i turisti Da oggi fino a dicembre Di nuovo in servizio Su un percorso Di 7 chilometri Per 62 tappe E 45 minuti Di durata Restiamo a Gubbio Le idee Prendono forma Con l'acceleratore Di impresa Joint Gubbio L'iniziativa Nasce dall'esigenza Di avere un punto Di riferimento Sul territorio Per la trasformazione Dei progetti E sempre a Gubbio Cultura slow Con il sottosegretario Barraccio A Palazzo Pretorio Incontro Per la valorizzazione Del distretto Che ingloba Due regioni E quattro Province Sull'Oasi E il Calai Scene grottesche Le parole sono Del sindaco Di Gualdo Tadino Presciutiche Repliche Ai consiglieri Morroni Minelli E Fofi Che hanno preferito Dicce la fuga E non partecipare Al voto Intanto Un trentenne spacciatore Esce dal carcere Risiedeva A Gualdo Tadino E viene rispedito In Albania Siamo a Foligno Colpito da rara malattia Il piccolo Giuseppe Ha bisogno Di aiuto L'appello Accurato Dei genitori Che non hanno Soldi a sufficienza Cercano anche Una casa adatta Alle necessità Del loro bambino E da Foligno Una telefonata annuncia Il rischio Calamità Si chiama Allerta vocale Il nuovo servizio Presentato ieri In comune Già 12.000 I numeri memorizzati Cronaca In manette tunisino Latitante da due anni E' stato fermato Dalla polizia E condotto In carcere E l'autunno Porterà altre telecamere In città Per la videosorveglianza Lo ha annunciato L'assessore Folignate Belmonte Ancora Foligno Il ricordo Della guerra E la speranza Di pace Alla Gonzaga Il passato Si cuccia Con il futuro Ieri la conferenza Promossa in occasione Del centenario Dell'inizio del primo Conflitto mondiale Stamattina I casalini medievali Aprono le antiche porte Inaugurazione alle 11 Con il presidente Della fondazione Carifal Alberto Cianetti Che ha acquistato L'intero edificio Siamo ai territori Siamo ai territori Della nazione Da Perugia La fiera di Pasqua Si farà Ma non in piazza L'assessore Casaioli Rispettiamo la festività Non si può dire Sempre sì A tutto Il comune nega L'autorizzazione A collocare i banchi Proprio a ridosso Del duomo 18 varchi A rischio Sanzione Scatta oggi Il divieto Di transit Anti-smog Mezzi pubblici Gratuiti E la notizia Curiosa Romizzi Multato sotto casa Non può neanche ricorrere I vigili Non fanno sconti Pagherò Ha detto il sindaco Eppure sono residente Ed ho il tagliando Ticket sanitari Ecco chi deve mettersi in regola Disoccupati under 65 Ma anche bambini Nuove regole Per ottenere le esenzioni Ancora per i territori Siamo ad assisi Minacce e persecuzioni Alla ex moglie Il GIP ordina Il divieto di avvicinamento Lo stalker dovrà stare Non meno di 500 metri Dalla donna Gubbio Un trenino Per scoprire il centro Così si rilancia il turismo 60 posti E anche un sistema Audio-video Da Gualdo Da 15 anni in Umbria Aldo Puscher Albanese E' stato rimpatriato Da città di Castello Torre Civica E Municipio Via ai lavori di restauro Rimozione delle barriere architettoniche Costo 80 mila euro Da inserire Nel bilancio 2016 Ancora un vertide Servizio civile 26 posti disponibili Per 7 progetti E ancora la Sapienza Rende omaggio al maestro Burri Ma Lignani Marchesani Sottolinea E' strana L'esclusione Della fondazione Siamo ancora Città di Castello Primavera con la canoa Turismo Passione e sport E' atteso un boom Di presenze Oggi e domani Anche le gare Del master L'iniziativa Lions Cani guida Labrador donato Ad un ipovedente A città di Castello A Foligno Invece si torna a parlare Del sistema Di allerta vocale Lanciato dal comando Di polizia municipale Insieme Alla Prociv Sulla raccolta Porta a porta Vus Si dice Disponibile ad accogliere Le richieste La società replica Le polemiche Sulla differenziata Ancora a territori Siamo a Perugia Smog 40.000 auto A rischio multa Blocco Dalle 8.30 Alle 12.30 Dalle 14.00 Alle 16.00 Poi Bulli e vandali Stretta Nelle scuole Perugine Al classico Studenti interrogano Romizzi e Siulp Sulla sicurezza Botte e imbrattamenti Carabinieri a Castello del Piano Parlano con i ragazzi Di situazioni Sempre attuali E a rischio Andiamo nel territorio Magionese Mercatone 1 A rischio 40 dipendenti Da sabato La svendita Il gruppo Ha presentato Il concordato In bianco Ad Assisi Perseguitava la ex E non potrà più avvicinarsi Mentre invece A Gubbio si parla Di rifiuti La bolletta rischia Di diventare salata E ancora Per i territori Andiamo A quelli Del Folignate Signora Le è accaduto qualcosa E sparisce La borsa La polizia invita A tenere alta L'attenzione E a segnalare Episodi Di questo genere Anche qui Per affrontare i pericoli Arriva l'allerta vocale Il progetto presentato ieri In caso di emergenza Il comune informa In tempo I cittadini Intanto alla Caritas Al via Il servizio A braccia aperte Per svolgere Servizio civile Presso Appunto I servizi Della Caritas Queste erano Le cronache locali Dal messaggero Ed ora Una brevissima pausa Ma come sempre Seconda parte Della nostra Rassegna stampa Sarà dedicata Allo sport Dunque A fra poco Non mancate